Sindaco, l'opposizione grida al golpe, allo scandalo, allo sgarro istituzionale. Qual è la vera situazione che si è venuta a creare ieri? Che bisogna essere seri. Ieri abbiamo dimostrato che noi giochi non li facciamo. Abbiamo interesse e il bene della nostra città e pensiamo a lavorare. E quando si esagera e si gioca e non si è irresponsabili, mi fanno arrabbiare. Io sono tranquillo e calmo. Quando mi arrabbio poi sono anche conseguente. Io mi sono veramente arrabbiato per certi comportamenti. Qui ci si rompe, riempie sempre la bocca che noi lavoriamo, bisogna venire incontro a chi lavora. L'altra sera in consiglio dei consiglieri che per ragioni vere di lavoro e improvvise hanno telefonato per scusarsi e dire guardate, tardiamo qualche minuto. I consiglieri sono stati informati e hanno giocato su queste cose per fare saltare e rinviare il consiglio comunale. Noi abbiamo preso atto della rigidità, del rispetto del regolamento e noi il giorno dopo l'abbiamo rispettato. Siamo arrivati puntuali e alla fine è anche educazione. Qui c'è sempre l'abitudine di iniziare i lavori tardi. Siamo arrivati puntuali. Chi era presente ha iniziato il seduto del consiglio comunale. I cittadini hanno l'intelligenza di capire quando si è responsabile e quando non si è disponibile a giocare sulla pelle degli altri. Questa è una risposta chiara, netta. Noi siamo sempre disponibili al dialogo, al confronto. L'abbiamo sempre dimostrato. In ogni caso avevano tutto il tempo per poter partecipare alla discussione. Hanno preferito non farlo, fare la commedia. Lo facciano. Poi vediamo se saranno premiati per questo. Sicuramente i cittadini saranno premiati per le delibere che abbiamo approvato, che faranno crescere ulteriormente la città come abbiamo fatto in questi anni. E alla fine faccio un augurio di buon Natale a tutti quanti e a tutti i consiglieri anche di opposizione perché comunque sono una persona sempre disponibile. Però quando c'è bisogno bisogna far capire quali sono le regole, quali sono i comportamenti e il rispetto.